Senz'altro il 2020 è stato un anno molto particolare per le aziende in generale ed ovviamente per i beni di largo consumo, per le aziende di marca. Ci sono stati grandi spostamenti sul mercato tra quello che è il settore retail e invece il mondo del food service. All'interno di tutto questo vi è stata poi proprio la gestione della pandemia, ovvero riuscire a continuare una linea di rifornimento anche in un momento particolarmente complesso e difficile in quanto concomitante, in modo particolare con la prima ondata, quindi ricordiamo i mesi di marzo e aprile del 2020, con delle grandissime difficoltà dal punto di vista aziendale nel riuscire a continuare a sopperire a quella che era la domanda dei consumatori. La sostenibilità ancora più che una leva è un must, è un indirizzo che le aziende e il mondo devono assolutamente avere nella loro missione, nel loro DNA e nel loro modo di fare impresa. Non la vedo tanto necessariamente come un semplice miglioramento, ma come appunto una necessità verso la quale dobbiamo tendere in modo molto forte perché di fronte a noi in alternativa non avremo un futuro particolarmente erosio. È un compendio tra il poter in modo particolare in Italia rilanciare i consumi, avere un'economia sempre più forte, ma al contempo anche un consumo e un'economia che riesca a comprendere in modo integrato il tema della sostenibilità.